Ciao Raffaele, eccoci giunti ormai alla nostra lezione del mercoledì. Noi oggi parleremo dell'Unione Europea, l'altra volta abbiamo parlato dell'ONU e oggi quindi approfondiamo maggiormente il nostro discorso sulle istituzioni. Anche questa lezione si svolgerà come le lezioni precedenti, ovvero ti spiegherò in inglese quali sono le caratteristiche principali dell'Unione Europea, seguirà la traduzione in italiano e poi dopo ti chiederei di formulare il solito riassunto di 50 parole in cui ecco elencarmi i diversi paesi che appartengono all'Unione Europea. Io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. So, today we are speaking about the European Union. So, the European Union was formed in 1958 and it is an economic and political union between 28 member countries. It was created after World War II because the European nations wanted to ensure peace. these countries have a common currency called Euro and there is a passport which allows people to travel between these nations. So, what is the Treaty of Rome? These countries signed the Treaty of Rome. During this treaty, these nations wanted to create a single market for goods, for services and for capital. And later, the Treaty of Rome changed its name and its new name was the Treaty of the Fractioning of the European Union. Here we can see a list of nations which are part of the European Union. We can see Austria, Bulgaria, Croatia, Estonia, France, Germany, Greece, Italy. Italy is important because Italy is the country in which we live and Italy joined in 1958. So, there are some countries, for example Albania, Montenegro, Serbia and also Republic of Macedonia and Turkey that have to wait a long and difficult process to join to the European Union. Because they have to wait for a free market economy and they must accept the European Union legislation. So, what is important to say about the United Kingdom? On June 23, three years ago, the United Kingdom left the European Union. And in this period, the vote was very close because 52% of the country voted to leave. And last year, they left the European Union. And last year, they left the European Union. So, there was a referendum four years ago on June 23. And last year, in April, the United Kingdom left the European Union. Allora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'Unione Europea è nata nel 1958 ed è un'unione politica-economica tra 28 stati membri. È stata creata dopo la Seconda Guerra Mondiale per assicurare la pace tra i paesi membri. E questi paesi membri condividono un'unica moneta, ovvero l'Euro. e con un passaporto è possibile viaggiare tra gli stati dell'Unione Europea. Come abbiamo già detto, nel 2016, quindi quattro anni fa, tre anni e mezzo fa, quattro anni fa, la Gran Bretagna inizia a pensare di lasciare l'Unione Europea attraverso un referendum che con il 52% di voti, quindi diciamo che una maggioranza abbastanza esigua, vota per lasciare l'Unione Europea. L'Unione Europea sarà definitivamente lasciata dalla Gran Bretagna ad aprile 2019, quindi esattamente l'anno scorso. Allora, questi stati membri hanno firmato nel Trattato di Roma un patto in cui creavano un mercato singolo tra le nazioni, quindi un unico mercato per merci, per servizi e per capitali. E successivamente il Trattato di Roma ha cambiato nome e diventa il Trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Qui abbiamo diversi paesi con la data in cui sono entrati nell'Unione Europea, abbiamo l'Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca. L'importante è ricordarsi che l'Italia, ovvero il paese in cui viviamo, si è arruolata tra virgolette all'Unione Europea nel 1958. Alcuni paesi, l'Albania, Montenegro, Serbia, la Repubblica di Macedonia e la Turchia, devono aspettare di subentrare nell'Unione Europea per avere un'economia e una democrazia più stabili e devono di conseguenza accettare la legislazione dell'Unione Europea. Come abbiamo già detto, il Brexit è quindi l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea nel 2016, il 23 giugno, quindi tre anni fa circa, l'Unione Europea decide di, attraverso un referendum, di lasciare, il Regno Unito decide di lasciare l'Unione Europea quindi diciamo che è stata una maggioranza abbastanza esigua. Ma l'abbandono definitivo da parte del Regno Unito è stato l'anno scorso, nel 2019, ad aprile. quindi facciamo ecco un riassunto di 50 parole e elencando anche qualche paese dell'Unione Europea qualcuno che già esiste nell'Unione Europea e qualcuno che invece deve ancora entrare. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro!